Musica Dei 95 pazienti Covid al Morelli, 51 non sono vaccinati, tra loro anche un uomo di 80 anni deceduto nei giorni scorsi e due trasferiti in terapia intensiva. 101 ricoveri in 5 giorni, ma anche 85 dimissioni. Altra adesione al Vax Day è organizzato oggi a Livigno dall'amministrazione comunale, assieme ad Areo, ATS della Montagna e SST, oltre un migliaio le persone vaccinate. La serie di atti vandalici compiuti tra sondi e morbegno, esaminata nel vertice e svoltosi in prefettura, episodi da ricondurre al disagio di alcuni giovani, ma in valle spiegano gli esperti, niente baby gang. Canone in azione nel Fondovalle, a confine Frabbosaggio e Caiolo, tra pochi giorni aprirà la pista per la pratica dello scinordico. Sarà aperta ai tesserati delle polisportive dei due comuni orobici. Buonasera, buonasera a tutti. Più della metà dei pazienti covid ricoverati al Morelli non sono vaccinati. Il totale dei pazienti ha oggi di 95, nell'ultima settimana più di 20 ricoveri al giorno, ma anche 85 dimissioni. Tra i non vaccinati si registrano anche un uomo di 80 anni, purtroppo deceduto, e due trasferiti in terapia intensiva e servizio. Più della metà dei pazienti covid-19 in cura all'ospedale Morelli non sono vaccinati. Lo comunica a SST, dando il dato complessivo di 95 ricoverati attuali, di cui 55 non vaccinati. Dei 45 che invece risultano vaccinati, ve ne sono molti affetti da altre patologie, un'appendicite o una frattura, risultati positivi al tampone a cui sono stati sottoposti al momento del ricovero, che non soffrono di problematiche legate al covid-19. Non vaccinato, era l'ottantenne deceduto nei giorni scorsi, come pure i due pazienti in gravi condizioni che stanno per essere trasferiti in terapia intensiva in uno degli ospedali accreditati dalla regione. Nell'ultima settimana è ulteriormente cresciuto il numero dei ricoveri giornalieri. Da 10 si è passati a una media di 20 e oltre, ma molti pazienti sottoposti alle cure vengono dimessi entro pochi giorni. Da lunedì scorso si sono registrati 101 ricoveri e 85 dimissioni. Un saldo negativo, che sottolinea ASST, evidenzia la gravità della situazione. Ai 95 pazienti in cura si aggiungono i cosiddetti paucisintomatici, ovvero con lievi sintomi, in via di guarigione, che sono una ventina in totale. L'impegno di medici, infermieri e personale sociosanitario, tra i quali tra l'altro si registrano molte defezioni a causa del coronavirus, è massimo per garantire cura e assistenza ai pazienti, ma anche sul fronte dei tamponi, nei drive-thru e in laboratorio, e delle vaccinazioni. La campagna vaccinale procede a pieno ritmo per la somministrazione di prime, seconde e terze dosi ai cittadini. Per i bambini dai 5 agli 11 anni sono in calendario sedute dedicate. Nei centri di Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Villa di Tirano e Sondalo sono previste circa 16 mila vaccinazioni alla settimana e chi prenota ottiene l'appuntamento entro pochi giorni. Intanto il presidente della regione Attilio Fontana ha comunicato che la Lombardia resterà in zona gialla anche la prossima settimana. Oggi, venerdì 14 gennaio, a Livigno si è svolto il Vax Day, l'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Remo Galli in collaborazione con Areo, ATS della Montagna e ASST Valtrinaltolario. Il Vax Day si è sviluppato dalle 8.17 nel centro polifunzionale Plazza Placheda. Sono amministrate prime, seconde e terze dosi, l'invitro è rivolto ai cittadini dai 5 anni in su. La risposta alla popolazione di Vignasca al Vax Day è stata notevole, un migliaio delle persone che hanno risposto all'appello. Le prenotazioni sono state raccolte nel corso di questa settimana con le 5 linee e i 5 operatori attivati dal Comune in accordo con le autorità sanitarie. Il Vax Day era rivolto soprattutto alle persone anziane, ai bambini e alle fasce della popolazione più fragili. L'idea di fondo era infatti quella di evitare trasferte fino al Morelli di Sondalo per chi è impossibilitato a spostarsi e deve richiedere l'aiuto di amici o parenti. La giornata di vaccinazioni ha avuto il successo sperato. Gli atti vandalici messi a segno compiuti fra Sondrio e Morbegno hanno lasciato dietro di sé danni e tanta amarezza. Le forze dell'ordine hanno in quasi tutti i casi individuati i responsabili. Per ridurre il fenomeno varato un gruppo di lavoro che si occuperà di coinvolgere i giovani più a rischio. Vediamo. Non esistono vere e proprie baby gang, gruppi organizzati che compiono atti vandalici. Gli episodi accaduti a Morbegno e Sondrio negli ultimi giorni, durante al termine le festività natalizie, prese di mirauto, decorazioni natalizie e perfino la sedena IP di Morbegno, sono da ricondurre al disagio di alcuni adolescenti. Questa è l'analisi delle forze dell'ordine esposta durante il vertice in videoconferenza coordinato dal prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello, la riunione del Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica. E fatto importante, quasi tutti i casi sono stati risolti con l'individuazione dei responsabili. Agire in via preventiva con azioni congiunte mirate all'impegno preso. Il prefetto ha promosso, d'accordo con il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Fabio Molinari, la creazione di un gruppo di lavoro che coinvolga anche gli uffici di piano, il responsabile dell'ENAIP, i direttori sociosanitari di ATS e SST, oltre alle forze dell'ordine. L'obiettivo è quello di realizzare iniziative, percorsi specifici per recuperare quelle forme di socialità sacrificate negli ultimi due anni a causa delle limitazioni legate alla pandemia, supportare in particolare i ragazzi che per varie ragioni sono risultati più colpiti. Durante il vertice è stato affrontato anche un altro tema di stretta attualità, i controlli a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale per verificare il rispetto delle regole anti-Covid. Sono già attivi nei prossimi giorni, spiega la prefettura di Sondrio, verrà attivato il piano di controllo misto che coinvolgerà anche le polizie locali che hanno aderito, sulla base di un protocollo che sarà firmato con l'Agenzia per il trasporto pubblico locale. La stessa agenzia ha poi assicurato la dotazione dei presidi, le mascherine FFP2, per gli operatori impegnati e nei limiti delle risorse a disposizione anche per gli utenti che ne fossero sprovvisti. Altro versante è quello della peste suina, accertata in Emilia-Romagna e in Piemonte. Il responsabile ufficio veterinario di ATS ha tenuto a precisare che il rischio di contagio riguarda solo cinghiali e suini e ad oggi non si sono verificati casi in provincia di Sondrio e nemmeno nel territorio lombardo. La notte difficile per chi doveva prendere il treno, quella di oggi si è svolta lo sciopro di quattro ore degli auto ferro-tranvieri indetto dai sindacati di categoria dei trasporti di Cigelle Cisle Will, della Cisle e di UGL. Altri disagi sono da mettere in conto nei prossimi giorni sulla rete lombarda. Trenorda continua infatti a registrare fra capi treno e macchinisti circa 180 assenze per positività al Covid o quarantene, in aggiunta circa 150 non direttamente connesse alla pandemia. Considerando che i dati relativi alle assenze si mantengono stabili, sarà invariata fino a domenica 23 gennaio anche la riorganizzazione del servizio che prevede la soppressione totale o parziale di circa 350 corse. La nostra lina a Tiranno-Milano non sarà direttamente coinvolta. Investire nella scuola presente nel proprio comune, aumentare i servizi dedicati agli alunni e alle famiglie e rendere anche i locali più sicuri. Così Castione-Andevenno ha dato un nuovo volto e anche una nuova vita alle scuole attive in paese. Vediamo. Rinnovate l'esterno all'interno con interventi che le hanno rese più sicure, sia dal punto di vista antisismico, sia per quanto riguarda la qualità dell'aria respirata da alunni e personale. Ecco come si presentano ora le scuole di Castione-Andevenno. La scuola di Castione-Andevenno in questo edificio è stata trasferita quando l'edificio è stato costruito nel 1959-60 e da allora non erano più stati fatti lavori di grossa manutenzione se si eccettua l'inserimento dell'ascensore per obbligo di legge. Grazie ai fondi del Ministero dell'Istruzione abbiamo preso due contributi su due progetti da 600.000 euro più un alto contributo di 100.000 euro e abbiamo potuto intervenire sull'edificio per un restyling totale. Un aspetto importante è che proprio in tempi di Covid la qualità dell'aria all'interno dell'edificio è migliorata. Una cosa importante che abbiamo voluto introdurre è proprio quella della ventilazione meccanica controllata che ci consente di cambiare l'aria all'interno dell'edificio. Una scuola pensata anche per coniugare le esigenze delle famiglie a quelle ovviamente didattiche. Abbiamo fatto anche un completo rinnovo della didattica in accordo con la dirigente Gianna che ringrazio ancora in questa circostanza e con le insegnanti del plesso. Infatti siamo passati dalla settimana lunga, abbiamo introdotto la settimana corta con due rientri pomeridiani e la mensa in modo tale che i bambini possano avere il sabato libero. Abbiamo introdotto anche due pomeriggi facoltativi organizzati dal comune, uno di stampo più scolastico e uno di stampo prettamente sportivo che consentono comunque ai bambini di permanere per tutti i quattro i pomeriggi della settimana che abbiamo inteso occupare a scuola. Questa scelta è stata fatta sia per le famiglie del paese sia per cercare anche di incentivare l'iscrizione di bambini che non siano di castione perché pensando per esempio alla vasta area commerciale artigianale del piano pensiamo che un orario del genere possa essere molto comodo anche per i lavoratori che vengono a lavorare in quella zona anche perché un'altra delle novità introdotte è l'accessibilità e l'accoglienza dei bambini già alle 7.30 di mattina. I bambini possono venire e sono sorvegliati, sono curati da personale pagato dal comune già alle 7.30 di mattina. La primavera porterà dal Bosaggio l'avvio dei lavori per la casa che si affiancherà al servizio di urno di spacca dedicato ai ragazzi con disabilità. Un grande spazio aperto alla comunità dove sperimentare l'autonomia abitativa. Nel 2019 alla vigilia del biennio della pandemia usciva il nostro numero della rivista annuale con il titolo We Have a Dream. Bene, oggi quel sogno direi che si sta avverando. È la casa di spacca struttura che si affiancherà al centro di urno già presente ad al Bosaggio e sarà di fatto integrata nel paese e nella comunità. Grazie al lavoro di squadra e di rete di fondazione, in primis con l'amministrazione comunale di al Bosaggio e ai contributi importanti e fondamentali di fondazione Cariplo e della provincia, i lavori partiranno all'inizio della primavera di quest'anno e sarà una struttura decisamente all'avanguardia dove abitare e socializzare sono i valori importanti. Ci sarà un ampio piano terra dove ci sarà la possibilità di iniziative di socializzazione che coinvolgeranno la popolazione e ci saranno degli appartamenti per l'housing sociale dove potranno essere sperimentate delle forme di autonomia abitativa. La casa di spacca è un grande traguardo ed ha grandi possibilità ai nostri ragazzi di poter guardare avanti, di poter non solo lavorare a piccoli passi sull'autonomia come già si fa ogni giorno all'interno del nostro servizio, ma di sperimentare un'autonomia più grande, più importante che quella dell'autonomia abitativa. Quando veniamo chiamati in causa e quando i progetti sono da sostenere perché sono progetti di rilievo e soprattutto sono progetti che muovono un'intera comunità, Fondazione Cariplo e devo dire anche la Fondazione di Comunità Locale e Fondazione Pro Valtellina sono sempre presenti. Un plauso va sicuramente all'amministrazione di Albosaggia, alla Fondazione Albosaggia e anche alla provincia di Sondrio che ha dato una mano e un contributo decisivo al sostegno di questa iniziativa. È un progetto sognato e ideato da alcuni anni, finalmente quest'anno abbiamo avuto risposta affermativa sulla possibilità della partenza, con questa possibilità per poter fare esperienze che permetteranno a loro di diventare maggiormente autonomi e produttivi per tutta la comunità. Pratiche più semplici a partire da lunedì per le attestazioni delle esenzioni dal ticket per patologia, sarà possibile infatti ottenerle direttamente alle casse dei presidi ospedalieri e territoriali oltre che all'ufficio scelta e revoca. a SST dispone di otto recapiti, cioè gli uffici casse aziendali, orari più ampi che consentiranno di procedere con le pratiche subito dopo la visita specialistica con un evidente risparmio di tempo. Un anello per lo sci di fondo, per lo sci nordico, nel Fondovalle a poca distanza da Sondrio e l'esperimento che vede impegnati i comuni di Albosaggia e Caiolo, è stata scelta un'area dove la neve naturale si conserva a lungo e dove ci sono le temperature giuste per produrre quella artificiale. Vediamo. Non siamo in una stazione sciistica, ma nel Fondovalle Valtainese, tra i comuni di Albosaggia e Caiolo a 5 minuti di auto dalla città di Sondrio. Il cannone ha lavoro da giorni per preparare un anello per lo sci di fondo, neve programmata che si deposita su quella naturale caduta il giorno dell'Immacolata. Un'idea tenuta a battesimo dalle due amministrazioni comunali orobiche. L'amministrazione di Caiolo insieme all'amministrazione di Albosaggia quest'anno ha deciso di fare questa prova, utilizzare un cannone per preparare una pista da fondo. Quest'anno l'iniziativa è rivolta a chi ha o farà la tessera della polisportiva o dell'AS di Caiolo, perché appunto è una prova e quindi vogliamo un attimino restringere un pochino il campo e vedere se funziona, se è fattibile e anche capire il gradimento della gente. Dovremmo essere pronti per settimana prossima. Lo Scinordico ha trovato nuovi spazi dove nel resto dell'anno l'agricoltura è di casa. Io ho una stalla qua dove arriva gente, lì che continuano tutti a dirmi per questa pandemia ma tu sei fortunato perché sei qua all'aria aperta, in mezzo alla natura, in mezzo alle mucche, non hai problemi. Prima nevicata che è arrivata un signore mi fa potrei venire qua a sciare perché c'era la neve e da lì da parte mia è partita un po' l'idea di associare lo sport all'aria aperta con l'agricoltura in questo paesaggio diciamo invernale, in questa piana dove io lavoro è fatta diciamo solamente di agricoltura dove abbiamo fatto anche la manifestazione di Scargamut riuscita molto bene in collaborazione con i due comuni e abbiamo detto ma perché non lo sfruttiamo anche l'inverno. Diciamo che questa pista rientra in una progettualità più ampia che vogliamo andare poi a sviluppare il prossimo inverno. Diciamo che i dettagli saranno sicuramente lo sport, sarà rivolto alle famiglie, ai giovani e ci sarà anche una componente agricola e comunque legata proprio alla natura e al territorio. La nuova Sondio Calcio si sta allenando in vista dei prossimi impegni, il ritorno in campo il 6 febbraio a Concorrezzo per il recupero di Sondio Concorrezzese con inversione di campo mece non disputato il giorno dell'immacolata a causa neve. La ripresa del campionato di promozione è stata fissata dalla federazione per il 13 febbraio, si riprenderà dalla sesta giornata di ritorno, le altre saranno recuperate in date ancora da definire. Atteso per la metà della settimana prossima in arrivo a Sondrio del nuovo mister biancazzurro Fraschetti. Purtroppo il virus che sta condizionando la nostra vita ha colpito anche il tecnico della nuova Sondio Calcio. Se il prossimo tampone a cui mi sottoporrò sarà negativo mi auguro di poter essere a Sondrio mercoledì prossimo. Le parole di mister Fraschetti. La squadra si sta allenando agli ordini di Tiziano Toni. Sul fronte mercato due nuovi arrivi, Fernando Giulia Perez, un ragazzo del 2002 di Valencia e l'esperto difensore centrale di origini croate e argentine Patricio Hernan Gorgona. Vi ricordo che potete seguire la nostra news su teleunica.com, guardare trasmissioni e il palinsesto su teleunica.tv e trovare tanti contenuti speciali sui nostri canali social. Con questo è davvero tutto, buona serata.